Per dare una risposta seria, concreta ai bisogni di questo territorio abbiamo bisogno di una spinta forte verso la pianificazione e la programmazione di alcune infrastrutture importanti e strategiche per la nostra regione e per le nostre province, perché qui non possiamo pensare solo alla provincia di Frosinone, dobbiamo cercare di creare una rete di interessi che portino questi interessi ad un collegamento sempre più forte tra i territori. Ecco perché la nostra Presidente Renata Polverini ha siglato un importante accordo di programma con il Governo nazionale per la realizzazione di alcune infrastrutture molto importanti nella nostra regione Lazio, dividendo le stesse in tre momenti importanti, quindi il polo settentrionale centrale e il polo meridionale, proprio per cercare di costruire una serie di interessi particolari e rilanciare l'economia nel nostro territorio e quindi di dare un supporto concreto e visibile alle nostre imprese, alle nostre piccole e medie imprese. Quindi si parla di realizzare ferrovie, porti, stazioni, dorsali, di pedemontane, quindi tutte attività importanti per mettere in rete il nostro territorio. Alcuni giorni fa la nostra Presidente è venuta qui ad Atina a parlare della dorsale appenninica della Sora Atina Isernia, un'infrastruttura molto importante che sicuramente potrà dar lavoro a molte imprese del nostro territorio ma metterà in rete una serie di interessi economici molto importanti tra la regione Lazio e la regione Molise. Inoltre abbiamo previsto una serie di interventi ancora più importanti per quanto riguarda la Montirepini, il collegamento tra Latina e Frosinone, la realizzazione della pedemontana di Formia, quindi tutta una serie di interventi molto seri che possono dare una risposta concreta al nostro territorio. Per quanto riguarda l'aeroporto, alcuni giorni fa il Consiglio di Amministrazione della DF ha recepito finalmente l'ingresso nel capitale sociale della DF e anche le quote societarie della nostra regione, quindi significa rafforzare questo progetto, significa crederci ancora di più, significa dare quell'importanza concreta ad un progetto che deve necessariamente concretizzarsi per poter dare una risposta vera, forte alla nostra economia ciocciara, ma dico di più alla nostra economia laziale, visto che è considerato che parliamo di un aeroporto di tipo regionale. Devo dire che su questa proposta si sta trovando molto consenso anche tra i comuni, i limitrofi, quindi mi riferisco a Valmontone che ha interesse ad entrare a sostenere questa iniziativa, come al comune di Sora e tanti altri enti, quindi questo entusiasmo fa ben sperare per la realizzazione di questa importante opera. Eppure anche in provincia di Frosignone esiste un popolo del no, notizia di qualche ora fa si è riunito questo comitato no aeroporto, hanno detto che l'aeroporto sarebbe una iattura per tutto il territorio, Maria Bruzzese cosa si sente di dire al territorio sull'aeroporto? Sull'aeroporto io sono stato sempre favorevole, quindi credo che sia una opera molto seria, molto importante, che potrebbe cambiare i connotati della nostra provincia di Frosignone da un punto di vista socio-economico. Credo che dobbiamo invece tenere presente anche il dissenso di alcune associazioni, di alcuni cittadini e questo dissenso deve necessariamente guidarci verso un'attenzione particolare della realizzazione del progetto, perché l'ambiente è un problema serio, l'ambiente è un qualcosa che appartiene a tutti, il rispetto dell'ambiente deve essere ovviamente un patrimonio dei sì e dei no, però la politica deve tener conto anche dei no e nello stesso tempo deve avere un confronto aperto, sereno con loro per trovare una mediazione giusta per non fermare la modernizzazione del Paese, per non fermare alcune opere importanti, altrimenti rischieremo tutti di rimanere fuori dal sistema produttivo e rischieremo anche di non rafforzare il nostro tessuto socio-economico e dall'altro cercare di trovare quelle risposte, fare progetti sempre più attenti, sempre più curati per il rispetto dell'ambiente. Quindi questa è la posizione che dobbiamo portare avanti e è chiaro che lo stimolo è riferito a tutti, è riferito a tutte le associazioni imprenditoriali, è riferito a tutte le nostre imprese, ma questa opera potrebbe ovviamente creare un momento importante di rilancio del nostro settore economico. Ogni operaio che muore sul lavoro, Presidente, è una sconfitta per tutta la società. Purtroppo è...